Ciao a tutti e benvenuti su Aviculation Premium. In questo nuovissimo tutorial vi insegno a fare un bellissimo bicchiere floreale. L'occorrente per questo progetto è un bicchiere di vetro, acrimico di vari colori con spugno e pennello, immagine di un fiore con la vinica e il pennello. Allora, cominciamo colorando il nostro bicchiere. Allora, cominciamo colorando il nostro bicchiere. E lasciamo asciugare. Dopo che il nostro bicchiere è asciutto, incolliamo il nostro fiore. Allora, giriamo il fiore, mettiamo la colla vinica, e ovviamente lo spandiamo dentro il pennello. Per poi incollare. Ok, adesso lasciamo asciugare. Lasciamo asciugare. E il nostro bicchiere è finalmente pronto. Si possono usare colori diversi e anche colori diversi. E poi... Così è ancora più carino. Bene, per allora è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!